Ragazzi, oggi è davvero importante, mi raccomando, però attenti, attenti ai falli, perché altrimenti con i cartellini è un disastro, come Marco, un picchiatore, un fabbro, ma dov'è Marco? Finisco di vivere i tacchetti e arrivo! Molto è caldo? Gli autocol! Freddo, prima volta, quanto è caldo? Ok! Sego anche la stufetta, sono un esperto io, 380esima panchina di fila, non gioco dal 1988, sono un passo dal record del mito, il mio mito, il grande Tommaso Berri, terzo portiere dell'Inter, che maestro! Ancora un po' di te Caldo eh, un po' di crema Ciao ragazzi avete fame? C'è un bel panino? Sono pronto ad ogni evenienza qua Sole, aria aperta, ti dobbiamo fare Voilà Mister, visto che stanno perdendo Questo panino può confermare o ribaltare il risultato Location 10 Mi piace Dai, entri tu Come entro io? Mister, deve esserci un errore Stavo scherzando Burlone Ma un po' di crema sul collo che sto ascoltando No, i calzettoni Ne ho dimenticati Qualcuno ce li ha? No, le ciabatte per la doccia Ne ho dimenticate Qualcuno? Ragazzi, ho dimenticato i pantaloncini Qualcuno che ce li ha? Grazie No, ho dimenticato le mutande Qualcuno che me ne presta? Oh, grazie No, no, grazie è un cazzo Ti ho dato Le ciabatte 7,50 I calzettoni Con lo sconto 3,99 Pantaloncini 5 euro Le mutande Usate Ma di marca 7 euro Totale 23,49 Vuoi fattura? Dai, dai, dai Che mi manca solo il gol dell'Atalanta Dai Dai Forza 6,50 Ma sì, che cosa? Che abbiamo preso una rimessa a metà campo Va bene, mister Stiamo guadagnando terreno I ragazzi vanno sostenuti Oh, quanto fa l'Inter? 1-0 Oh, chi ha fatto gol dell'Atalanta? Zapata Sì, ce l'ha il Fanta Ma basta Ma vogliamo pensare alla partita o no? Ma basta con questo Fanta Calcio Dai Ma il ciolito ha segnato o no? Eh, il ciolito, mister Quello lì non fa mai gol Certo che lei ha scelte tecniche Sempre male Infatti io sto in panchina E poi ci troveremo come ne sta A bere le whisky a Rossi va Gigi, io vado Dai che sei l'ultimo, eh Sì, non vado Non vado a rincorrere Suoi, vai Arrivederci Ciao Beh, ma dove vai col pallone? Eh, domenica ha fatto tripletta Porta a casa il pallone, no? Eh Uè, Ronaldo Il pallone incostano Da qua, da qua Sei l'ultimo Sì, sì Un'altra stagione sta per finire Chiude il Borsone per l'ultima volta quest'anno Non è facile ricordare tutto C'è chi ha vinto C'è chi ha perso C'è chi ha dovuto affrontare Un brutto infortunio Che gli ha portato via sogni e speranze Tutti noi però Non vediamo l'ora di ricominciare Con gli stessi compagni di sempre O in un'altra squadra Eh sì Perché Dietro a quel pallone Ci sono amicizie Gioie E dolori condivisi In campo Come nello spogliatoio A presto Perché senza di te Noi Non sappiamo stare